Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi faremo il post partita di Parma Fiorentina, partita che si è conclusa ieri sera col punteggio di 0 a 0. Allora, secondo me è stata una partita molto combattuta che si è giocata soprattutto a centrocampo, però c'è stata anche qualche occasione, per esempio per la Fiorentina mi viene in mente le occasioni di Riberi o il calcio di punizione di Biraghi oppure l'occasione di Testa di Cuamè. Invece per il Parma mi viene in mente l'occasione di Inglese, il tiro di Gervinio a inizio partita, l'occasione di Cusca, insomma si sono stati fatti tanti tiri, però alla fine è finita 0 a 0. Poi secondo me nel primo tempo ha fatto più possesso palla al Parma e nel secondo tempo ne ha fatto di più la Fiorentina, quindi è stato equilibrato. Ci sono state tante azioni in fuorigioco, mi è piaciuto come hanno esordito i giocatori del Parma, per esempio Osorio ha fatto una partita discreta, poteva fare molto di più, però non è che ha giocato male dai. Poi Isom, per lui non era l'esordio, però mi è piaciuto tantissimo ieri sera, ha girato un sacco di palloni, ha giocato molto bene. Poi Caramò ha giocato benissimo anche oggi e quando è entrato mi ricordo un'azione che ne ha scartati tre e poi il quarto gli ha rubato la palla, però vabbè è stato molto bravo anche oggi Caramò. Quest'anno mi sta piacendo Caramò. Poi non ha giocato Ciprienne, non so perché. Io l'avevo anche messo nella probabile formazione titolare. Finalmente è tornato inglese, titolare che era tantissimo che non giocava titolare. Allora inglese ha fatto, diciamo che poteva fare di più, però ha giocato discretamente. Ha difeso due palloni, che io mi ricordo ha difeso due palloni e poi ha fatto la sponda e l'ha ridata dietro e poi se non sbaglio ha fatto anche un tiro. Comunque non ha giocato male. E anche questo video si conclude qui. Lasciate like e Forza Parma!